mi insegno un piccolo trucco per dare anche a livello estetico una forma carina la nostra carta forno io l'ho già tagliata più o meno della misura della nostra teglia quindi vado a piegarla a metà per la lunghezza piego ancora sformo un quadrato a questo punto vado a formare una specie di cono che ripiego un'altra volta deve venire così a questo punto prendo le forbici e gli do una forma arrotondata fino ad ottenere il risultato che si vuole nel mio caso volevo ottenere questo risultato vedete e questa è la forma a fiore che io volevo ottenere a